Musica Si debba tutti quanti lavorare per impedire una escalation del conflitto che potrebbe portare conseguenze per noi oggi inimmaginabili. I ragionamenti basati sul diritto internazionale umanitario sono corretti, necessari, indispensabili, ma purtroppo sembrano sterili nell'attuale contesto di Gaza. Noi diciamo che amassero un'organizzazione terroristica, amassero un'organizzazione confusa con il popolo palestinese, figuriamoci che può essere confusa con il mondo arabo. Dall'altra parte io ho qualche dubbio che gli intervottori per la pace possano essere rappresentati nel odierno governo di Netanyahu E noi siamo assolutamente contro ogni forma di terrorismo. Preciso però che questo nulla toglie riguardo alla nostra posizione del governo di Israele, che è un governo con una forte connotazione di destra, che sta conducendo una azione militare che riteniamo sbagliata. Noi pensiamo che ci possa essere una pace per Israele, una pace duratura per la Terra Santa, però questo passa dalla sconfitta di Hamas, passa dalla sconfitta del terrorismo. Con la guerra tra Israele e Hamas e la polarizzazione che causano nella nostra società, con la prossima settimana, c'è un rischio enorme di attacchi terroristi. Sono passati esattamente due mesi dal pogrom del 7 ottobre e dalla conseguente reazione militare di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Tra le due parti si contano 18.000 vittime. Buonasera e ben trovati a tutti voi a questo nuovo approfondimento del TG Plus. Buonasera Savino Balzano, il nostro opinionista. Buonasera Aurora, un caro saluto a tutti voi. Vado a presentare i nostri ospiti, il direttore di difesa online Andrea Cucco. Grazie per essere qui con noi, direttore. Buonasera, grazie a voi. In collegamento da Beriut, il giornalista indipendente Marco Magnano. Grazie per essere qui con noi, Marco. Grazie a voi per l'invito. Allora, partiamo subito con te perché sappiamo che poi ti dobbiamo lasciare. A due mesi di distanza dall'attacco terroristico del 7 ottobre resta il timore nelle comunità del nord di Israele di nuovi attacchi missilisti, soprattutto incursioni nello stesso stile però da parte di Hezbollah. Tant'è che Netanyahu proprio oggi ha lanciato la sua minaccia. Se Hezbollah attaccherà Israele, ne faremo di Berut quello che stiamo facendo a Gaza. Che aria si respira? Allora, dobbiamo dire che stiamo vivendo in una fase di ritorno di una certa preoccupazione. negli primissimi giorni successivi all'attacco di Hamas contro Israele, c'era la sensazione che non fosse tanto una questione di se quanto una questione di quando a proposito di un'iniziativa di Hezbollah in supporto a Hamas. Dopodiché le dichiarazioni che sono arrivate nelle settimane immediatamente successive hanno portato a, diciamo, una sorta di alleggerimento della tensione. Cosa voglio dire? Sin dal 7 di ottobre, anzi dall'8, sul confine tra Israele e Libano si è creata una sorta di grammatica comune, se vogliamo chiamarla così, tra Hezbollah e l'esercito israeliano, per cui le modalità di attacco sono rimaste più o meno invariate da quella data fino ad oggi. lanci di razzi su alcune zone abbastanza specifiche da una parte e dall'altra. Tutte le operazioni che sono avvenute, diciamo così, un po' fuori da questa grammatica comune sono state assegnate ad altri gruppi, che ne so, Hamas in Libano oppure qualche gruppo indipendente. Tutto quello che è stato rivendicato da Hezbollah invece seguiva questa serie di regole. Detto questo, il momento di più grande timore che potesse esserci un cambio di passo, una escalation, se vogliamo chiamarla così, era sicuramente la fine di ottobre, quando Hassan Nasrallah, ovvero il segretario generale di Hezbollah, ha annunciato il proprio discorso. E ora, in Libano si dice sempre quando Nasrallah prende la parola è o per dire che una guerra è finita o per dire che una guerra sta cominciando. Questa volta siamo andati un po' fuori dallo schema perché il discorso di Nasrallah è stato, se vogliamo speculare a molti altri discorsi regionali, penso anche quelli iraniani, si è ribadito che l'attacco del 7 ottobre era un'iniziativa al 100% palestinese. Poi, che ci crediamo meno, questo è un altro discorso, ma rimaniamo sul livello delle dichiarazioni. e in questo modo ha eliminato gli automatismi di intervento di Hezbollah via terra nel caso di superamento di quelle che vengono chiamate linee rosse, in particolare l'intervento di terra di Israele a Gaza. Tutto questo, infatti, è avvenuto più volte. Voglio dire, Israele, secondo la logica di questa guerra, ha superato linee rosse in modo continuo, penso all'intervento di terra del 27 ottobre e via via tutte le altre. Eppure la grammatica sul confine non è cambiata. Questo salvo alcuni sparuti episodi. Pensiamo all'uccisione dei giornalisti nel sud del Libano. Ecco, ti interrompo Marco perché emergono dettagli su quel bombardamento del 13 ottobre in cui ha perso la vita un reporter della Reuters e altri colleghi sono rimasti feriti. Due indagini, due inchieste portate avanti sempre dalla Reuters e dall'Agenzia stampa francese dicono che, correggimi se sbaglio, il gruppo sarebbe stato preso di mira intenzionalmente. Allora, questo è quello che dicono i rapporti di Reuters e di France Press. Non ci sono chiaramente indagini o inchieste internazionali in corso. Ci sono indagini di parte, una sul lato libanese, una ufficialmente sul lato israeliano, che non credo, onestamente, sia in corso in questo momento. Però, diciamo che la dinamica di quello che viene chiamato incidente fa pensare che non sia stato un caso perché in quel contesto c'erano sette persone, tutti o giornalisti o cineoperatori o fixer. Quindi è difficile che il gruppo, che tra l'altro era chiaramente contrassegnato da indicazioni press, sia stato colpito per sbaglio. Ma diciamo anche che non deve stupire più di tanto, visto che siamo di fronte alla guerra in cui sono stati uccisi più giornalisti negli ultimi trent'anni. E quindi i giornalisti in questo momento sono dei target all'interno di quel contesto, senza dubbio. Grazie Marco per il tuo punto, per la tua analisi. Marco Magnano, giornalista in collegamento da Berut. Torneremo a disturbarti. Grazie. Con piacere. Grazie a voi. Adesso vado dal direttore Andrea Cucco perché, oltre appunto a quello che riguarda Israele, Gaza e il Libano, cresce il timore per un escalation, un allargamento del conflitto. Guterres, il segretario delle Nazioni Unite, ha invocato l'articolo 99 della carta proprio per portare l'attenzione sulla crisi nella striscia di Gaza. ha detto Guterres, è una questione che a mio avviso potrebbe aggravare le esistenti minacce al mantenimento della pace e alla sicurezza internazionale. Insomma, direttore Guterres vede una minaccia concreta, così come concreto l'allerta lanciata dalla Gioanzo, l'abbiamo inserita anche nel nostro blog, attenzione alle vacanze natalizie perché, insomma, il rischio che ci possono essere anche attacchi terroristici c'è. Sicuramente, la Gioanzo si occupa come commissaria dell'Unione Europea per gli affari interni anche di migrazione, quindi chi, se non lei, può avere più chiaro il polso della situazione e dei rischi collegati. È una bomba che rischia ad esplodere e di deflagrare a catena, come le dichiarazioni di oggi Netanyahu fanno capire molto bene, insomma, quali sono le intenzioni anche di Israele nei confronti di nuove minacce. Però, a mio parere, non dobbiamo focalizzarci solo su Israele. Qua è tutto parte di un anello di un conflitto globale molto più grande e ci sono altri attori che non sono stati ancora citati. Parliamo dell'Iran che è il registro occulto dietro Hamas, dietro Hezbollah e dietro tanti altri attori e finanziatori di quello che è avvenuto anche indubbiamente il 7 ottobre. Peggio è un regime che è in profonda crisi interna di consenso. Sorprende sentire da due mesi che la gioventù iraniana è a favore di Israele, proprio perché stufa evidentemente di venire massacrata da un regime che non permette semplicemente delle ragazze di andare in giro senza un velo con una pulizia religiosa che massacra i propri cittadini e questo porta molti paesi nella storia a risolvere le questioni e le crisi interne con dei conflitti esterni. Savino Balzano, cosa ne pensi di tutto quello che è stato detto finora dei nostri ospiti, la questione dei giornalisti, la tensione per un rischio terrorismo e anche per l'allargamento del conflitto con tutti questi attori che ruotano attorno alla questione Israele Hamas? Penso che il rischio di escalation e di allargamento del conflitto sia un rischio concreto. Dopotutto il segretario generale dell'ONU lo ha affermato e credo che lo abbia affermato con autorevolezza. Il problema è che le azioni del governo israeliano che oggi la politica timidamente definisce sbagliate hanno una etichetta molto chiara che si dovrebbe adoperare. Il governo Netanyahu è un governo criminale che sta svolgendo sulla striscia di Gaza un'azione criminale che ha trasformato quello che fino a poco fa era un carcere a cielo aperto in un cimitero a cielo aperto. Contiamo ad oggi 16.000 morti di cui i due terzi sono donne e bambini. Questa non è solo una guerra contro i miliziani e i vertici di Hamas, molti dei quali non sono peraltro nemmeno nella striscia di Gaza. È purtroppo, anche se questa parola desta un certo scandalo, un vero e proprio genocidio perché si sta massacrando in tutti i modi possibili, direttamente o indirettamente, una intera popolazione. E questo ovviamente darà argomenti a coloro i quali non vogliono la pace, non soltanto il governo Netanyahu ma in primis il governo Netanyahu che, ripeto, sta svolgendo un'azione criminale. Aspetto con ansia che qualcuno proponga un mandato di arresto internazionale per il capo di un governo che si sta dimostrando un governo criminale. Non l'ha proposto però una cosa del genere, ha detta Erdogan, il presidente turco. Torno dal direttore Cucco, perché abbiamo parlato appunto del rischio di escalation, di terrorismo ma la speranza che si possa arrivare a un compromesso non si va affievolendo. Lei, tu direttore, credi che Netanyahu possa avere un ruolo all'interno di una futura ripresa di questo processo di avvicinamento, di dialogo e chi può oppure essere il garante, un garante accettato dalle due parti. In una recente intervista l'ex primo ministro israeliano Barak ha suggerito l'idea di inviare a Gaza una forza di pace sotto legge della Lega degli Stati Arabi nell'immediato periodo post bellico. Credi che sia una proposta realizzabile questa? Sicuramente come è avvenuto in Libano una forza di pace è auspicabile ma non certo da parte della Lega Araba perché di per sé, per definizione, è un'organizzazione divisa. Ne fanno parte paesi come l'Algeria, il Marocco ma anche l'Arabia Solita e al contempo Yemen e Siria. Parliamo anche di Libia. Quale fazione della Libia dovrebbe essere presente? Non è credibile e soprattutto visto il cambio di alleanze estremamente rapido di anno in anno non avrebbe la giusta serietà sicuramente invece da parte delle Nazioni Unite come il Libano potrebbe avere una sua ragione d'essere. Speriamo che non avvenga un'escalation soprattutto perché il rischio paventato da Gutiérrez e Johansson potrebbe interessare anche l'Europa come attentati. La commissaria lo ha paventato e a quel punto forse dovremmo chiederci esprimeremo le stessi giudizi o le stesse... saremo così clementi nei confronti degli attentatori una volta che avremo avuto 1200 morti anche noi. non avremo di certo la reazione di Israele ma noi purtroppo commentiamo da un punto di vista e da posizioni privilegiarie e tranquille. Forse dovremmo metterci anche nei panni di chi subisce una certa violenza che prima di tutto sono d'accordo con quanto detto prima le vittime sono i palestinesi sia da parte della reazione di Israele che da parte di Hamas. una soluzione potrebbe esserci però mi chiedo e in questo la presenza una forte enorme presenza militare americana ha cambiato probabilmente le sorti del gioco di certi piani iniziali potrebbe essere sacrificato qualcuno per arrivare a una tregua quindi mi chiedo nelle prossime ore se non nei prossimi giorni se non avverrà qualcosa di... una notizia interessante per cui potremo vedere concluso una prima parte di questa tragedia. Direttore, chi potrebbe essere sacrificato? I responsabili di Hamas a partire dal suo capo. Quello potrebbe essere un sacrificio fatto da qualcuno per evitare conseguenze ben più gravi. Ecco, Savino tu chi pensi che possa fare da garante eventualmente in un processo di dialogo e di avvicinamento? Nelle scorse ore il presidente Putin ha intrapreso un tour diplomatico in Medio Oriente. Quale ruolo potrebbe giocare Mosca in questo quadrante? È una parte interessata che si contrappone a un'altra parte interessata che è quella degli Stati Uniti. Non lo so. Io anche confido in un ruolo da parte dell'ONU. Mi verrebbe da dire da parte dell'Unione Europea ma fa quasi ridere affermarlo. Però vorrei uscire da un equivoco. Io non ho nessun atteggiamento clemente nei confronti dei terroristi di Hamas. Il gesto e l'attentato del 7 ottobre è un attentato criminale che va condannato senza sé e senza ma. Però aggiungo che la reazione israeliana è una reazione che di certo non restituirà sicurezza ad Israele. Anzi, io credo che questo governo criminale guidato da un criminale che è Netanyahu sta assicurando decenni di insicurezza al suo popolo. Quindi io credo che la reazione sia controproducente anche da questo punto di vista. Al di là di quello che dici tu leggevo una notizia poco prima di entrare in trasmissione secondo cui anche alcuni ostaggi che sono stati liberati raccontano proprio che nel periodo di prigionia avevano paura di morire sotto le bombe e gli attacchi missilistici di Israele. Ma insomma questa è un'altra storia. Insomma non è la stessa storia ma non abbiamo tempo di approfondirla oggi. Io ringrazio il direttore di difesa online Andrea Cucco per essere stato qui con noi. probabilmente torneremo a disturbare anche lui se ce lo consente direttore. Grazie a voi sicuramente. Grazie. Noi adesso Salvino cambiamo argomento in maniera abbastanza netta. Parliamo del modello di auto della Fiat che ha fatto la storia del nostro paese. la Panda che però a partire dal prossimo anno diventerà elettrica ma non sarà più prodotta in Italia. Bensì in Serbia. Lorenzo Capezzuoli-Ranchi. Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Ah, la Panda. La macchina che ha contribuito a mettere l'Italia su ruote sin dal suo esordio nel 1980. Prima Fiat, poi FCA, adesso Stellantis. È l'utilitaria simbolo del made in Italy. Ma siamo sicuri. Il gioiellino italiano attualmente prodotto nello stabilimento di Pomigliano d'Arco alle porte di Napoli sarebbe pronto a traslocare la sua produzione in Serbia. L'annuncio che ha colto gli automobilisti e non solo di sorpresa proviene dallo stesso presidente serbo Aleksandar Vucic che nell'incontro con la premier Giorgia Meloni ha annunciato che sarà lo stabilimento di Kraguevac la culla del modello totalmente elettrico di Fiat Panda a partire dal 2026. Un simbolo italiano che quindi si sposterà ad est. Va bene produrre un'auto con marchio italiano all'estero ma la Panda è più di un simbolo. Considerando poi che nel 2035 le auto europee prodotte saranno solamente elettriche la portata di questa rivoluzione rischia di penalizzare sensibilmente tutta l'industria dell'automotive italiana compresa l'occupazione. Prendendo ad esempio la sede di Pomigliano d'Arco dove attualmente sono circa 4.000 le persone occupate sulla linea di produzione Stellantis fra Alfa Romeo Tonale, Fiat Panda e Dodge Hornet i sindacati hanno subito palesato più di una preoccupazione anche perché secondo l'Istat il comparto automobilistico impiega in Italia circa 160.000 persone che così rischierebbero di vedere ulteriormente ridotto il loro numero. Stellantis, gruppo che ora racchiude la galassia automobilistica Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ramtrucks e Vauxhall rassicura e promette l'obiettivo è quello di presentare al governo un piano per tornare a produrre un milione di vetture all'anno tutte in Italia in un paese dove sono oggi poco meno della metà. Buonasera Ferdinando Uliano, segretario della FIM CISL Buonasera Grazie per essere qui con noi anche se in ostaggio dei ritardi delle nostre reti ferroviare segretario che cosa si continuerà a produrre allora nello stabilimento di Pomigliano perché Stellantis non ha scelto l'Italia per produrre una panda elettrica che con ogni probabilità sarà anche uno dei modelli più venduti visto che ci avviamo a dire addio alle auto non più non green in Europa tra 15 anni circa. Chiaramente noi siamo di fronte a una multinazionale che decide le allocazioni in funzione di una strategia globale in questo dobbiamo partire da questa considerazione perché se non partiamo da qua non riusciamo a capire come ad esempio nello stabilimento di Melfi sulle 5 nuove vetture assegnate solo una è a marchio italiano, una lancia a gamma altre 4 sono su marchi DS, quindi francesi, Opel oppure Jeep la decisione del gruppo riguardo alla panda, la panda elettrica la posizione nello stato della Serbia noi abbiamo chiesto e preteso al gruppo che da tempo che lo stiamo dicendo che la garanzia della produzione della panda fino al 2026 non ci basta vogliamo avere delle garanzie rispetto a chi sostituirà la panda perché oggi lo stabilimento di Pomigliano d'Arco è uno stabilimento che non ha, correggo il servizio 4.500 lavoratori occupati ma bensì altri 1.400 che provengono dagli altri stabilimenti come lo stabilimento Melfi che sono in cassa integrazioni perché si sta producendo l'alfa tonale ma anche un'altra vettura che non è italiana che è la Dodge Hornet che viene prodotta per il mercato americano quindi il tema non è il marchio, il tema sono i modelli quindi quello che noi abbiamo chiesto e preteso a Stellantis nell'incontro che abbiamo fatto anche al Ministero è che se l'obiettivo sono il milione di veicoli tra veicoli commerciali e autovetture prodotte nel nostro paese dobbiamo stabilire i tempi ma soprattutto dobbiamo stabilire i modelli quindi per Pomigliano noi ci aspettiamo una risposta precisa il gruppo ci ha detto che fino al 2026 è certa la Panda ma auspicano che un'eventuale modifica sulla normativa Euro 7 possa dare ancora un ulteriore periodo di durata tenga presente che oggi la Panda inizialmente Stellantis aveva previsto che andava su un turno perché pensava che si iniziasse la fase di discesa invece abbiamo dovuto ristabilire due turni e farla lavorare su sei giornate quindi è un modello che ancora va perché si rivolge ovviamente a una quota di consumatori a basso reggio Savino, ora qui il dibattito è ampio non riguarda chiaramente soltanto la Panda ma i risvolti che questa scelta avrà sull'occupazione in Italia ricordiamo che secondo l'Istat la produzione di auto in Italia da lavoro a 160.000 persone quasi la metà, la maggior parte dipende proprio da Stellantis e poi c'è anche la questione delle politiche economiche adottate dal governo italiano e Lichlein dopo l'annuncio del presidente serbo ha parlato di una totale assenza di politiche industriali da parte di questo governo condividi beh io sono molto preoccupato anche perché la mia sensazione è che il governo non sia consapevole delle condizioni dell'occupazione nel nostro paese non sia consapevole oppure faccia finta di non saperlo perché vengono sbandierati i dati in crescita sull'occupazione ignorando il fatto che invece il numero delle ore lavorate è in calo quindi non rendendosi conto del fatto o facendo finta di non rendersi conto del fatto che l'occupazione qualora aumenti davvero è un'occupazione di scarsissima qualità oggi nel sistema Istat e nel sistema Eurostat vengono considerati occupati anche lavoratrici e lavoratori che lavorano per pochissime ore alla settimana questo vi dà l'idea di come quando articoli di giornali o proclami politici roboanti parlano di un'occupazione in crescita basandosi su determinati tassi probabilmente stanno parlando di una realtà che reale non è e non è reale nella vita di moltissimi nostri concittadini ecco questo è un problema perché come ricordavi tu 160.000 lavoratrici e lavoratori che lavorano in un settore devono in qualche modo essere tutelati per poter essere tutelati ci vuole una politica economica industriale di un certo tipo e io vedo davanti a noi anni di austerità perché il rigore è quello che ci chiede l'Europa e quello che in qualche modo questo governo vuole garantire quindi la mia preoccupazione è alta Senta, segretario ma cosa potrebbe fare la politica per aumentare la produzione di stellantis in Italia? Qualcune settimane fa l'amministratore delegata aveva chiesto al governo maggiori incentivi per le auto elettriche ora sappiamo che ci sono bonus che valgono sia per l'elettrico ma anche per le automobili che hanno emissioni basse ma continuano ad andare a benzina questo dico oltre a una proroga un allontanamento dell'entrata in vigore del regolamento Euro 7 praticamente che si può fare nel nostro paese? Noi abbiamo chiesto un intervento molto preciso a parte del governo e condivido anch'io fino ad oggi non c'è stato non c'è stato per il governo Draghi non c'è stato fino ad oggi con il governo Meloni in particolare noi stiamo denunciando il fatto che mentre gli altri stati stanno proseguendo su una politica di incentivi e di investimenti per accompagnare la transizione perché stiamo parlando di andare verso l'elettrico il nostro paese sta fermo abbiamo una dotazione di un fondo che è stato stanziato di circa 6 miliardi e mezzo perché era di 8 è stato utilizzato solo per incentivi all'acquisto delle autovetture ma abbiamo tutto un processo di transizione che dobbiamo accompagnare e queste cose non sono state ancora fatte e oggi abbiamo stabilito che ci sia una volontà per fare cinque gruppi di lavoro per definire in maniera precisa una linea di intervento e ci aspettiamo che dall'incontro che abbiamo fatto si vada in questa direzione perché servono gli incentivi per l'acquisto delle nuove vetture che è un anno che non si stanno facendo servono gli investimenti per tutto il settore che è ancora posizionato sui motori endotermici quindi bisogna andare in questa direzione Ma entro quando avrete una risposta se vi hanno dato un termine, una scadenza una data per avere qualche informazione in più dopo questo tavolo? Noi dovremmo fare un incontro già dal mese di gennaio abbiamo stabilito in maniera precisa con il governo un'azione che coinvolgerà sia i sindacati sia l'Anfia sia Stellantis sia le regioni perché ad esempio c'è un tema anche di energia che è stato posto con forza che il costo dell'energia a Tavares ha posto in maniera pesante dicendo che l'energia elettrica che viene pagata in Francia non ha lo stesso costo di quella italiana quindi noi abbiamo bisogno di interventi che vadano in una direzione precisa noi abbiamo interi settori pensiamo alle marglitte, la stessa Marelli ad esempio abbiamo grandi fornitori come Denso e Bosch che stanno producendo particolari sui motori endotermici e nessuno tratta con questi grandi gruppi per condizionarli rispetto a politiche che dovrebbero aiutare la transizione e la trasformazione Francia, Germania ma la stessa Spagna ma anche altri paesi come la Turchia in questa direzione stanno dando noi dobbiamo passare dal libro bianco alle risorse stanziate a fare in modo che queste risorse vengano destinate alle aziende e all'industria c'è tanto da fare dunque segretario grazie per essere stato qui con noi torneremo anche a lei a disturbarla dopo questo nuovo incontro sia con Stellantis che con l'esecutivo grazie a Ferdinando Ugliano della Fim Cisle per essere stato qui con noi vediamo anche con piacere che il suo viaggio è giunto a destinazione a presto arrivederci Savino i nostri telespettatori ti ritrovano non la prossima settimana quella dopo ancora perché il nostro opinionista si sposa quindi grazie per questo tuo intervento auguri da parte mia e penso anche dai nostri telespettatori io ringrazio te ringrazio tutti i colleghi di redazione rivolgo un saluto affettuoso ai nostri spettatori ci vediamo molto presto noi ci vediamo domani grazie Emanuele Forcina in regia l'informazione del Cusano Media Group torna a mezzanotte 30 buona serata